Appena finito il Gran Premio del Belgio nell'Università dell'Automobilismo e del Motosport in generale, il circuito di Spa-Francorchamps ha laureato con l'Odemension George Russell al termine di una gara capolavoro che gli ha consegnato la terza vittoria della carriera. Un Gran Premio del Belgio che per la verità ha sorpreso perché ci si aspettava sicuramente Overstappen sugli scudi e ancora una volta il McLaren da podio, invece in parte abbiamo rispettato questi pronostici perché una McLaren che c'è stata sul podio è quella di Oscar Piastri, per il resto una Mercedes che praticamente out of nowhere, di pura strategia, riesce evidentemente a capitalizzare le dinamiche che ovviamente sono maturate sul circuito di Spa-Francorchamps in una gara abbastanza inusuale che ovviamente però aveva condizioni asciutte. Premessa però molto importante, la qualificazione si svolta sul bagnato e le Mercedes un pochino avevano effettivamente beneficiato di queste condizioni. Certo il polposino sarebbe arrivato Max Verstappen ma prima della penalizzazione di 10 posizioni per aver cambiato componenti del motore il campione olandese è partito undicesimo, prima fila dunque con Leclerc e Hamilton e qui subito la Mercedes dimostra di che pasta era fatta in Belgio. Hamilton ha uno spunto migliore rispetto al pilota monegasco in curva 1 alla source, riesce ad avere la meglio di Leclerc e poi prende e se ne va. Da qui in poi la Mercedes avrà un passo comunque importante sulla carta, possibilmente anche da vittoria ma con una sola macchina certo nessuno si poteva aspettare che Russell si inventasse la gara capolavoro. La magata del pilota inglese sta evidentemente nel fermarsi una volta in meno rispetto agli altri. Sulla carta appunto il plan prevedeva di fermarsi due volte così come hanno fatto tutti i 20 piloti in griglia, Russell invece non ha osato fare questa strategia ma ha provato qualcosa di diverso. Dopotutto parliamo di un uomo che non ha velleità di mondiale ma in generale la Mercedes dal punto di vista del mercato piloti del mondiale, piloti meglio, non è che avrà chance di vincere il mondiale quindi ci poteva stare provare qualcosa di diverso. Certo, fare una sosta sola a Spa-Francorchamps in un circuito che tendenzialmente degrada le gomme con appunto delle gomme non propriamente nuove ma a fine corsa era evidentemente un gran bell'andare a realizzarlo ed effettivamente Russell però ci è riuscito perché man mano che Abilton si avvicinava si dava l'impressione ovviamente che Russell potesse perdere la posizione non solo su lui ma anche su Piastre che stava arrivando evidentemente di gran carriera. E invece Russell resiste, Abilton non tenta gli attacchi né alla fine dell'attività del Kemmel né alla frenata della bus stop e quindi è terza vittoria della carriera. Per l'inglese George Russell che si inventa una gara da capolavoro assoluto con una sosta in meno che tutti gli altri ha ragione lui e vince, suona di conseguenza God Save the King con un podio che appunto ha dell'inaspettato. Perché che la Mercedes e la McLaren potessero essere competitive lo si sapeva e se lo poteva anche aspettare. Certo pronosticare in questo periodo storico una doppietta Mercedes quando la macchina dominante è stata la Red Bull e in questo momento la macchina numero uno è McLaren era evidentemente qualcosa di allucinante. Eppure il motorsport è bello perché ogni tanto regala delle sorprese e perché è vario. Di conseguenza celebriamo la seconda vittoria in quattro gare di George Russell che pissa appunto il successo di Red Bull Ring. Russell con questa vittoria appunto sale a quota tre della carriera, due in stagione, due nelle ultime quattro, settima posizione assoluta della classifica mondiale con 141 punti. Dietro Lewis Hamilton doppietta due mercedes, Hamilton comunque rimane davanti a Russell di due punti, 143 per il pluricampione inglese al 201esimo podio in carriera su 104 vittorie. Numeri che parlano veramente da sé e terzo uno Oscar Piastri che nelle ultime due gare si conferma un uomo decisamente in forma. L'unica cosa su cui può recriminare Piastri in modo di vedere è il aver tra virgolette perso troppi giri nel passare Leclerc. Un Leclerc che partiva in pole position ma che ci si aspettava potesse fare la gara del gambaro e così è stato. Però appunto Piastri con la macchina che si ritrova perde forse due giri troppo a passare a Leclerc e a conti fatti costando del poi che ovviamente è molto più facile avere appunto quei due giri in meno poteva avere una chance importante per Piastri per bissare forse la vittoria di Ungheria di settimana scorsa dove appunto ha suonato Advanced Australia Fair nonostante le grandissime polemiche. Per una volta però il tifoso McLaren posso dire che il muretto arancione si è comportato in un modo corretto. Ha fermato finalmente chi era primo in pista in questo caso Piastri perché Norris ancora una volta si è ritrovato incapace di partire ma ne parleremo e quindi Piastri ha consolidato la posizione di primo pilota della McLaren quantomeno in questo campione del Belgio sempre davanti appunto al suo comando di squadra Lando Norris. In quarta posizione invece abbiamo Leclerc che appunto usufruisce dalla pole position. Va detto però che va contestualizzato. È una pole position effettuata sul bagnato dove Leclerc comunque ha avuto un ottimissimo spunto anche se l'italiano è andato a farsi benedire ma appunto abbiamo ancora una volta la dimostrazione che Leclerc è il miglior qualificatore della storia dei tempi moderni praticamente perché con un mezzo nettamente inferiore rispetto a McLaren e Mercedes è una delle due Red Bull è evidente come il pilota Monegasco che ci abbia messo tantissimo del suo e quindi Leclerc comunque ha capitalizzato l'occasione. Certo si era preso 16.000 da Verstappen in condizioni di bagnato ma è figlio anche del setup diverso tra appunto sia Verstappen che Leclerc però appunto bisogna trovarsi nella posizione giusta e Leclerc infatti è partito al palo la Ferrari però fa la gara del gambolo e finisce in quarta posizione con il Monegasco che comunque non ha fatto una cattiva gara. In quinta posizione abbiamo Max Verstappen che partiva appunto undicesimo per la penalizzazione di 10 posizioni per aver cambiato componenti del motore alla fine arriva quinto sfruttando appunto un passo superiore e una strategia alla fine vincente. È stato fondamentale in realtà il secondo stint dei piloti di testa perché appunto le posizioni che vediamo qui in classifica si sono decise di fatto tutte al secondo stint uno stint che però vede non premiante Lando Norris Lando Norris che lo dico è la delusione del giorno ancora una volta. In questa Formula 1 Norris si ritrova in posizione buona per accorciare su Max Verstappen e invece ne esce con le ossa rotte anche in una volta. Sono 48 adesso i punti di distacco tra Norris e Verstappen. Certo, dopo il gran casino fatto dal modetto McLaren in Ungheria probabilmente la McLaren non si aspetta di vincere il Mondiale Piloti bensì quello costruttori dove lì invece il divario è molto meno ampio. Però comunque anche oggi Norris partiva davanti a Verstappen e arriva dietro a Verstappen. Motivo prevalentemente perché Norris non è capace di partire. A quanto pare ha perso della tecnica o della finezza. In questo particolare tutte le volte che Norris trova davanti si ritrova poi a fare evidentemente delle prestazioni molto sotto le aspettative. Anche oggi le Mercedes l'hanno passato Piastri si è ritratto sempre davanti esattamente come in Ungheria e a questo giro non c'erano ordini di scuderia, casinari o appunto passaggi strani di posizione. Alla fine Norris ha preso la paga da Piastri e sta avendo un momento di flessione e quindi probabilmente Norris è uno dei piloti che potrà beneficiare della pausa estiva che appunto da qui arriverà a riprendere le ostilità tra un mese circa a Zandvoort, Olanda dove Verstappen rischia di comunque arrivare dal leader del mondiale ma non così imbattibile anche perché la Red Bull evidentemente si è profondata come valore. Proseguendo nella classifica abbiamo la settima posizione di Carlos Sainz Jr che anche lui aveva azzardato una strategia su una sosta sola per quanto riguarda la gara del Belgio ma alla fine Sainz ha dovuto desistere e arrivare evidentemente in questa posizione. Per la cronaca, quarta e settima posizione sono i reali valori di questa Ferrari a Spaffranconchamp perché appunto Leclerc ha fatto una qualificazione straordinaria con un giro incredibile ma appunto ci si poteva aspettare che la Ferrari potesse fare la gara del gambero e così è stata. Alla fine poi Sainz non è riuscito neanche a prendere il trino davanti si è adottata col povero Perez che in realtà l'avrebbero fermato per fare il giro veloce per quanto platonico sia però appunto anche Sainz ha fatto una gara in realtà abbastanza anonima ottavo Sergio Perez pilota che è sulla graticola si era detto che con il contratto che aveva appena rinnovato per il 2025 e per il 2026 ci fosse una clausola di posizionamenti al termine della gara di Spa non doveva essere a più di 100 punti di distacco da Verstappen e oltre le 5 posizioni della classifica del mondo ovviamente tra appunto il pilota olandese e il pilota messicano eppure le posizioni le vediamo e anche il distacco in punti quindi vedremo se Carlos o meglio se Sergio Perez sarà riconfermato in Red Bull molte voci dicono di no alcuni dicono di sì c'è già una bella diatriba tra Ricciardo Tsunoda e Lawson per vedere chi dovrebbe prendere il suo posto comunque va detto che anche oggi Perez partiva terzo ha fatto anche una buonissima qualificazione poi l'hanno fermato per far passare Verstappen perché qui le gerarchie sono veramente ben decise ed evidentemente però appunto anche qui ottava posizione per il pilota messicano nono Fernando Alonso con una Aston Mackin che non è né carne né pesce classica Mackin questa cosa da quinta forza prima del midfield e a provolto di midfield abbiamo i punti per Esteban Ocon per questa Alpine che si è fatto notare più che altro per la livrea celebrativa del film Death to the Wolverine il terzo della saga e ha portato un punto in dote al suo campionato quattro punti totali per il pilota francese che l'anno prossimo sarà in Haas lasciando dunque Alpine andando dunque nel di fatto junior team della Ferrari con come compagno di squadra Oliver Berman Oliver Berman che ha corso in Formula 2 una Formula 2 che appunto insieme alla Formula 3 ha coronato le gare di controllo del Gran Premio del Belgio e ne parliamo perché della Formula 2 abbiamo una grande evidentemente smossatura in classifica al netto che anche quelli italiani non può farsi benedire con Isaac Hajar che soprattutto in gara 2 allunga sui diretti avversari in particolare Paul Aron che fa un doppio zero sanguinoso sul circuito di Spa-Francorchamp e dunque il divario è veramente tanto ampio rispetto agli inseguitori addirittura Aron da possibile inseguitore di Hajar si è ritrovato in terza posizione assoluta adesso il nuovo secondo è Gabriel Bortoleto ma appunto dobbiamo parlare anche della gara del sabato una gara sprint che però è stata diciamo mozzata per scarse visibilità della pioggia hanno fatto otto giri dopo averla diventato già una prima volta alla fine negli otto giri assegnano i punti ai primi cinque e come in Formula 1 suona God Save the King perché vince per la seconda volta in stagione Zacco Sullivan pilota del junior team della Williams in seconda posizione abbiamo Dennis Hauger pilota norvegese ex Red Bull junior team ed in terza posizione Richard Verskor che vissa il podio di Budapest dove in realtà avrebbe vinto anche gara 1 ma appunto è stato squalificato per l'annesima volta per l'irregolarità della macchina esattamente come capitò Aja da dove anche lì aveva vinto in gara 2 ovviamente dobbiamo parlare però della grande vittoria di Isaac Ajaar fatta di totale strategia e appunto è il motivo per cui adesso Ajaar e Bortoleto sono prima o seconda in classifica del campionato Ajaar è primo per cui suona la Marsigliese in seconda posizione è Bortoleto pilota del junior team della McLaren in terza posizione invece abbiamo Jack Crawford che appunto beneficia del ritiro di Aaron che ha avuto un problema evidente al motore e questo doppio zero per il pilota estone della Mercedes può essere assolutamente sanguinoso dobbiamo però parlare anche di chi è settimo nella classifica assoluta del campionato Formula 2 ed è Andrea Chimiantonelli che si è fatto notare non per appunto la posizione diciamo in classifica ma per un grande sorpasso all'esterno o meglio all'interno di Franco Colapinto allo Rouge Radion un sorpasso che soltanto quelli veramente bravi possono evidentemente eseguire peraltro ricordiamolo che quel sorpasso l'ha fatto sul bagnato quindi manovra clamorosa di Antonelli 17enne di Bologna di un'ultima della Mercedes che sembra ovviamente predictato per andare in Formula 1 al posto di Hamilton sperando ovviamente che la carriera e le grandi aspettative che hanno i medi italiani su di lui non lo possano bruciare il ragazzo ha fatto vedere comunque di essere molto talentuoso ha portato a casa qualche punto anche qui con una posizione in gara Fitcher però appunto un piccolo andagio adagio sarebbe questo se appunto in classifica generale Oliver Berman che in questo momento è quindicesimo è in Formula 1 in Haas nel 2025 Antonelli ci può ampiamente stare come talente per cosa ha dimostrato sul bagnato a Silverstone sul bagnato in Belgio e nella gara lunga di Ungheria con la prima vittoria della carriera speriamo ovviamente che la pressione dei medi italiani che a mio avviso è esagerata e ovviamente il programma della Mercedes non lo vada a bruciare ma appunto Antonelli il talento ce l'ha e vedremo se sarà veramente confermato in Formula 1 nei prossimi anni in Formula 3 invece abbiamo sempre un'Italia che sorride nonostante i due piloti oggi abbiano fatto comunque dei punti importanti nonostante soprattutto il leader Leonardo Fonaroli sia primo a una gara dal termine senza averne mai vinta una in un campionato che non ha ancora una volta un vero e proprio padrone ha soltanto un round dal termine è stata la più bella Formula 3 di sempre mi verrebbe da dire da quando esiste questo format perché tanti piloti sono di livello alto e vincono sempre con ovviamente delle circostanze più o meno favorevoli a cominciare dalla vittoria di Dino Beganovic pilota svedese ovviamente per il quale suono il suo inno che vuol dire in svedese libertà prima vittoria in Belgio per Beganovic dopo che aveva già vinto in realtà a Melbourne in Albert Park in seconda posizione Gabriele Mini uno dei due italiani che ci sta facendo sognare in Formula 3 per una doppietta del team Prema e in terza posizione Noel Leon pilota messicano del team VAR in gara feature invece arriva la prima vittoria della carriera per l'inglese Callum Voison del team Carlin quindi suona anche per lui God Save The King in seconda posizione abbiamo il primo podio della stagione di Sebastian Montoya figlio di Juan Pablo ovviamente Sebastian corre per il team Campos ex junior della Red Bull e terzo Leonardo Fornaroli che con questo podio sfrutta lo 0 di Mini che finisce il tredicesimo e allunga o meglio torna in testa al campionato attenzione perché praticamente fino ad Arvid Limblad che qua fa un doppio 0 sono tutti in corsa per il titolo del mondo Formula 3 in 4 si giocheranno il titolo a Monza Leonardo Fornaroli Italia 129 punti Gabriele Mini Italia 128 Luke Browning inglese 123 e Arvid Limblad inglese per 113 punti totali un solo round due gare di istituzione per un campionato clamoroso due italiani hanno la chance di diventare campioni del mondo di questa categoria chi lo sarà tra Gabriele Mini e Leonardo Fornaroli sperando che non si inserichino gli inglesi Browning e Limblad appuntamento a Monza per quanto riguarda le categorie di contorno in particolare la Formula 3 che avrà la sua fine con un titolo che peraltro da quando esiste la Formula 3 non è mai arrivato per i piloti italiani per la Formula 1 invece a Zandvoort a fine agosto Monza invece sarà in grado di settembre questa è la classifica prima della pausa estiva con Verstappen che in qualche modo allunga in classifica generale a 48 punti su Lando Norris in questo campione del berge che ha consacrato George Russell con una strategia unica vincere la terza gara della carriera il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti